Beati i poveri di spirito, ossia i veri umili. Fra due opposti vizi, la superbia che sopra i confini della ragione innalza l'uomo e la disordinata abiezione che lo deprime troppo. Se ne sta l'umiltà, la quale, con la vera cognizione di se stessa, modera l'animo onde non salga sopra di sé e piuttosto lo inclina ad abbassarsi, sostenendolo però sempre la retta ragione, onde non cada nell'altro estremo, cioè nell'abiezione. L'umiltà è necessaria, ah, perché Cristo la comanda. Questa virtù è sì necessaria che Cristo disse, se voi non diverrete come fanciulli non entrerete nel regno dei cieli e ancora chiunque si umilherà come questo fanciullo, questi sarà il maggiore nel regno dei cieli. In queste parole, se voi diverrete come fanciulli, dove si parla di umiltà, osserva San Bernardo un tono di parlare diverso da quello di queste altre, chi può capire capisca, dove si parla di verginità, e conchiude concorde con gli altri padri, che dunque, ec consulitur illa exigitur, la verginità è di consiglio, ma l'umiltà è di precetto. L'umiltà non è dunque soltanto un consiglio utile alla perfezione, ma un precetto necessario a tutti per andar salvi. Come non sarà comandata anche a voi l'umiltà, quando a tutti è comandato salvarsi? E senza umiltà, senza diventare fanciulli, non vi potete salvare? B. Perché Cristo la insegna. A voi pure sono necessarie le lezioni di Cristo, vostro maestro. Imparate da me, egli dice, che sono umile e mansueto di cuore. Da me, che essendo di natura uguale al padre, mi sono esinanito, prendendo la natura del servo, fatto umile non solo come fanciullo, ma nato bambino vagi sul fieno, soggetto per trent'anni a quelli che io avevo creato, per farmi obbedienti al padre fino alla morte di croce, dove sazio di obrobri, fui reputato tra i scelerati qual peccatore. Io vi ho dato esempio di umiltà, perché come io ho fatto così voi facciate, non è maggiore il discepolo del maestro. Ah, cristiano, Cristo umile, tu cristiano superbo? Non ti sta più bene questo nome di cristiano, che se tu non risolva subito di abbracciare l'umiltà, converrà che non solo rinunci al regno dei cieli, che è il regno degli umili, ma che cambia ancora nome. Pensaci un poco, sotto un capo umile non può stare un membro superbo. Ci, perché è fondamento di tutte le virtù. Vedo già le persone che amano la virtù, tutte date a piantar pietre e basi di saldissima fede, alzar colonne e muri di invitta speranza, stendere volte magnifiche di carità, collocare freggi delle più belle virtù, piantare giardini dove la virginità più pura o l'amore più tenero invitino lo sposo a delizia e a riposarsi nel meriggio nei pacifici silenzi degli ombrosi viali. Che bell'edificio, quanto ricco, quanto ameno. Ma avete voi pensato prima a scavare fondamente profonde per questa fabbrica sia alta onde possa reggere eventi furiosi a cui va soggetta? Avete voi pensato prima a scavare dal vostro cuore tutta la terra mobile della superbia per renderlo aperto alla grazia? Quale saggio architetto che getta pietre ferme nel fondo sodo dell'umiltà e alza l'edificio quanto più vago, tanto più saldo? San Bernardo vi dice che se voi non avete fatto buon fondamento di umiltà il vostro edificio rovina. E soggiunge San Gregorio che se i vostri gigli non hanno radice di umiltà si seccheranno, anzi usciamo di metafora. Le virtù stesse vi serviranno di rovina perché guardando voi stessi sprezzerete gli altri con altissima superbia. Così, mentre vi penserete di conservare nei cieli, avrete bisogno di una grazia straordinaria che vi converta, essendo più facile che si converta al bene un peccatore manifesto che la stessa caduta umilia di quello che è un peccatore occulto coperto col manto di apparenti virtù.